Figlia del Voivoda Peter Shepanov Ivukotic, comandante militare e ricco proprietario terriero, la cui famiglia aveva larga influenza nell'area montenegrina, e di Elena Voivodic, suo padre era intimo amico di Mirko Petrovic N. J. Egos del quale era stato commilitone per le guerre. D'indipendenza del Montenegro, decisero di consolidare la loro amicizia facendo sposare la giovane Milena col principe ereditario. Del Montenegro, Nicola, la coppia fu destinata alle nozze nel 1853, quando Milena aveva appena sei anni e Nicola dodici. Nel 1856, dopo la morte della madre, Milena venne inviata a Cettigne per essere educata alla corte di cui poi sarebbe divenuta sovrana e, soprattutto, per imparare i rudimenti della cultura che non aveva mai ricevuto entro le mura domestiche a tal punto da presentarsi completamente illetterata. Ella studiò con Gorde, figlia di Mirko Petrovic N. J. Egos e sua futura cognata. Durante i quattro anni di preparazione, Milena si avvicinò molto alla famiglia principesca del Montenegro. Mio padre e mia madre la amavano come se fosse una loro figlia, scriverà più tardi Re Nicola. Ella cresceva bella, dolce, educata, gentile e devota. Nicola, nel frattempo, studiava all'estero, prima a Trieste e poi a Parigi. L'assassinio del principe Danilo il 12 agosto 1860, portò inaspettatamente Nicola sul trono di regnante del Montenegro all'età di 18 anni. Poco dopo la sua ascesa, Nicola si trovò vicino alla morte a causa di una pleurite. Intenzionato quindi a sposarsi per garantire un'erede al trono paterno, Nicola prese in moglie Milena L. 8 novembre 1860. Nella chiesa di Vlesch, nella valle del Monte Losen, dei preparativi del matrimonio si occupò attivamente il padre di Milena, il quale venne mandato in ambasceria a San Pietroburgo presso la corte dello zar Alessandro II di Russia, il principale tra gli alleati del Montenegro, affinché approvasse l'unione dei due giovani. Dall'unione nacquero 12 figli, di cui tre maschi e nove femmine. Tra queste ultime, sei andarono in spose a famiglie reali o aristocratiche d'Europa, permettendo l'accesso del Montenegro agli affari politici europei. Zorca, 1864-1890. Sposata con Pietro I di Serbia. Milica, 1866-1951. Sposata con il Gran Duca Pietro di Russia. Anastazia, 1868-1935. Sposata con Giorgio di Leutenberg. Dopo il divorzio, con il Gran Duca Nicola il giovane. Maria, 1869-1885. Danilo, 1871-1939. Sposato con Jutta di Mecklenburg-Ostrelitz. Jelena, 1873-1952. Sposata con Vittorio Emanuele III. Ana, 1874-1971. Sposata con il Principe Francesco Giuseppe di Battenberg. Sofia, asterisco, 1876. Mirko, 1879-1918. Sposato con Natalia Konstantinovic, cugina di Milano Brenovi-Civi di Serbia. Ksenija, 1881-1960. Vera, 1887-1927. Peter, 1889-1932. Milena non nascose la sua disapprovazione nei confronti della Biura la religione ortodossa. Pronunciata dalla figlia Elena al fine di sposare con rito cattolico Vittorio Emanuele di Savoia. Erede al trono italiano, Milena fu costretta all'esilio con il re Nicola in Francia dal novembre 1918. A causa dell'occupazione serba, morì ad Antipe nel 1923 e venne tumulata nella cripta della piccola chiesa russa di Sanremo. Nel 1989, i resti della famiglia reale Montenegrina furono trasferiti a Cettigne, ex capitale del Montenegro, in suo onore. A partire dal 1933, il paese di Milocca in provincia di Caltanissetta, modificò il nome in Milena.